gianni bravo is back gianni bravo è tornato qualche amico del canale mi ha invitato a fare una nuova reaction su dimas senopati talking to the moon un brano di bruno marz metto i sottotitoli per tutti ormai lo ripeto molto lo ripeto costantemente per cui sono felice di andare ad ascoltare dimas che è un artista che io amo tantissimo un giovane artista indonesiano che ormai chi conosce il mio canale sa che seguo da diverso tempo che ormai è diventato una realtà straordinaria del canale non mio ma insomma è esploso come realtà e come youtuber in maniera straordinaria e quindi ce lo andiamo ad ascoltare in talking to the moon di bruno marz in questa sua realizzazione questa sua cover per cui bando alle chiacchiere andiamoci ad ascoltare di massenopati talking to the moon di massenopati 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 L'artista copre ormai uno spettro ampissimo di canzoni con il suo fedelissimo amico Jafar Ahmed, il chitarrista. Io li trovo adorabili, trovo adorabile sempre comunque questa loro maniera di riarrangiare i brani e Dimas si conferma quello che è, intanto questa sua dolcezza, questa sua qualità, questo suo timbro, questa sua sicurezza lo rende assolutamente delizioso nelle interpretazioni. Non ho molto da aggiungere se non continuare a fare i complimenti a Dimas Senopati, augurandogli il meglio nella musica e nella vita. Concludo come sempre, enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao.